Tanti auguri a tutti, oggi sono semplicemente qua per farvi gli auguri e direi che fare riti per Natale non ce n'è bisogno perché tutto il Natale è un rito la famiglia, gli affetti, stare in compagnia, anche il semplice Natale al bar, basta stare bene quindi state bene con voi stessi, state bene in famiglia, state bene con tutto vi auguro, vi faccio i migliori auguri di buone feste e vi auguro semplicemente un buon tutto ciao a tutti, tanti auguri, baci, ciao ciao